Noi voliamo in Puglia dove il sole è la Fala da Padrone, insomma per i fortunati che quest'estate faranno le loro vacanze proprio lì perché per quasi due mesi in diverse località della regione si terrà il Salento Book Festival dedicato appunto alla cultura. E con noi stamattina il direttore organizzativo Giampiero Pisanello, buongiorno e grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno, grazie a tutti voi. Allora parliamo un po' del festival in generale e soprattutto anche una bozza di programma per proprio quei fortunati che quest'estate dovessero passare dalla Puglia. Sì, come dicevi tu per più di due mesi nel Salento riaccendiamo le luci della cultura e lo facciamo in dieci comuni del Salento, dalla fascia ionica alla fascia adriatica e porteremo le storie nei più bei luoghi appunto del Salento, nei centri storici, sul mare, nei castelli, nelle corti e parleremo di storie, di libri e con tanti tantissimi ospiti. Facciamo un po' di nomi, facciamo venire un po' di voglia a chi ci sta seguendo e che magari ha già prenotato una vacanza in Salento di venire a trovarvi. Assolutamente sì, naturalmente il festival è iniziato il 26 giugno e durerà fino a metà settembre. Abbiamo avuto già Mario Calabresi, Oretta Berti, Antonio Caprarica e Nicola Gratteri, abbiamo avuto davvero tantissimi ospiti, ma adesso ci prepariamo ad un lunghissimo step che ci porterà fino appunto a metà settembre, dove avremo Serena Dandini, Masso Colma, di nuovo Antonio Caprarica, Costantino Dorazio, Giovanni Impastato, Franco Arminio, Giancarlo De Cataldo. Un lunghissimo cartellone per tutti i gusti e per tutte le fasce d'età. Direi un parter niente male. Prima di tornare anche sui contenuti, c'è la questione logistica di cui ultimamente stiamo parlando parecchio perché non è secondaria, diciamo almeno nell'ultimo anno e mezzo. Ecco, dal momento che voi siete anche un festival, se così possiamo dire, itinerante, la difficoltà di organizzare un evento così grande con tanti ospiti, tante persone, in più punti della Puglia. Assolutamente sì. Mi preme sottolineare che a supporto appunto di questo festival ci sono tantissimi sponsor della regione Puglia, ma in questi dieci comuni dove si terrà il festival, che se posso li cito, che sono Arradeo, Galatone, Galatina, Gallipoli, Nardò, Corigliano d'Otranto, Parabita, Tricase e Castro. È un progetto speciale a Tuglie, vicino a Gallipoli, dove il festival è nato dieci anni fa. Naturalmente in questo contesto, in questa particolare edizione, stiamo rispettando tutte quelle che sono le norme. Se pensiamo alle piazze del 2019, con più di mille persone in piazza, non lo possiamo assolutamente immaginare. Quest'anno abbiamo delle platee ridotte, però sempre con numeri molto importanti, con 200 persone a serata e naturalmente si rispettano tutte quelle che sono le regole che questo periodo particolare impone. Ci teniamo alla salute innanzitutto nostra, degli ospiti e del pubblico che ci segue, soprattutto dei tantissimi turisti. Come potete immaginare, il Salento in questo momento sta pienissimo di turisti da tutte le parti d'Italia e quindi ci seguono e questo ci fa davvero onore. Quindi basta mascherina e distanziamento, insomma. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Perfetto. Allora, arriviamo magari a questo weekend. Dove sarete e chi ospiterete? Allora, questo weekend saremo sabato sera a Galatone, nel Palazzo Marchesale, con Luca Barbarossa. Domenica sera saremo nel Castello Volante di Corigliano d'Otranto, con Chiara Francine. Naturalmente il cartellone proseguirà, lunedì saremo a Galatina, martedì a Corigliano. Ogni sera c'è un evento e anche più eventi, perché il Salento Book Festival ha creato quella che è la movida del lettore. Quando dieci anni fa Gallipoli e il Salento erano su tutti i giornali per la movida così un po' giovanile, noi abbiamo proposto la movida del lettore. Quindi di paese in paese, questa sorta di caromana letteraria, per chi voleva un po' più di tranquillità e voleva incontrare il proprio scrittore preferito, riusciva a spostarsi di sera in sera. Quindi questa movida del lettore, dopo undici anni ancora qui, si è intensificata ancora di più e quindi è un altro aspetto del Salento che bisogna valorizzare. Non solo divertimento che ci sta, è naturale che ci sta, ma anche un movimento culturale interessante che porta appunto nelle piazze tantissimi autori di tutte le case editrici nazionali. Un successo che dura ancora oggi, quello del Salento Book Festival. Se siete in Puglia, come detto, fino a metà settembre, cercatelo online e magari fate un salto. Giampiero Pisanello, grazie, buona giornata, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.